ciao a tutti e benvenuti in questa nuova serie come vedete questa nuova serie sarà concentrata sull'attesissimo almeno per me personalmente così gioco per playstation 4 ovvero uncharted 4 uncharted 4 che oltre ad essere il primo capitolo per playstation 4 cioè su nuova console sarà sembra un po contro senso ma è così anche l'ultimo della saga o serie come lo volete ma voi a regola salvo imprevisti comunque detto questo iniziamo allora vabbè qui come sempre il classico menu principale opzione un attimino fatemi vedere l'audio volumi allora effetti perché altrimenti poi non so se già ora nemmeno il principale comunque altrimenti può succedere come è successo in passato che la mia voce viene mischiata a quella del gioco nel senso è troppo alto volume del gioco ecco musica mettiamo 12 dialoghi 12 filmati a filmati si fanno anche abbastanza 18 chat che non so cosa sia mettiamo 10 bene sì eventualmente mi scuso mi scuso già in anticipo se ci saranno problemi di audio eventualmente poi chiaramente modificherò poi il tutto già nel il prossimo episodio nel secondo insomma detto questo dai iniziamo dai è che sono curioso oddio cosa ho pigiato no esploratore c'è che invece ho pigiato x si va mettiamo esploratore perché altrimenti come sempre le cose andrebbero troppo per le lunghe l'agganciamento mira si di tutto si vai si l'agganciamento mira si per forza perché ragazzi veramente io sono disperatoria o così simili che faccio sono ovviamente scarso l'agganciamento No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Suora hai... Hai... Non? Non voleva ridarmi il mio libro. Ti avevo detto di tenere in camera quei libri. La colpa è soltanto tua. Questo non gli dà il diritto di rubarmi. Quindi pensi che ti dia il diritto di tirargli un pugno? Non era solo per il libro. Per cosa allora? Niente. Lo dirò al confessore. Nonostante i miei sforzi, sembri davvero deciso a ripetere i tristi errori di tuo fratello. È un peccato. C'è un fratello. E qui si sarà sullo stesso discorso di prima. Io non so se questa notizia l'avevano già andata. Io non la sapevo, quindi per me è la prima volta. La prima volta che viene fuori o che sento di che c'è un fratello. Comunque, vabbè. Stiamo avanti. Penso sia siamo. Deduco sia siamo. Ma da bozzi. Addio. Nemmeno. Ok. E si scioglie. scusate scusate l'intrusione c'è nessuno morto rendiamo scena onto sono subito morto sono andato distinto ragazzi ho sbagliato vediamo un po' dove c'è da andare bisogna andare di qua bisogna andare dentro io ho visto la finestra aperta sono uscita istinto di merda parlerò più ruido mattina stessa d'accordo? buonanotte notte addio ora l'ho mandato a lei chiusa andiamo di qua anche se secondo me c'era qualcosa da pigiare dicevo anche se secondo me è da andare dove è andata la storia leggi vabbè andiamo dove è andata la storia devo arrivare qui la finestra ma ti guarda ti guarda la storia vado forza e ti sorella ma vai Dio buono cosa fa ma fumo una sigarettina ma guarda la storia Dio si tenta la sorte o si aspetta che vada via la sora no oh io vado eh vai vai cosa devo fa mi devo calare dell'altro no devo saltare vedrai o mi devo calare Dio ma no che paura ah no basta premere il tasto per andare in giù vai vuoi addio 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 strano era quotato a uno che succedessi una cosa del genere però quando salta vai si stacca il tubo fa vedere no strano oddio 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 ma non mi devo che vado di sotto trappolino dove devo andare vedo qui c'è lo zaino ma la torcia pensavo bisogna sapere neanche lo zaino eccolo che sembra sì sì probabilmente no è il suo fratello cosa cos'è questo scherzi di nuovo non è niente il fatto di non cacciarti nei guai ci spalava merda addosso ma allora ha detto che papà ci ha scaricati perché siamo un peso e mamma è all'inferno Nathan dai lo dicono solo perché sanno di ferirti capito è vero imparano a riderci solo tu non ridi fai quel che dico non quel te bacio tieni o prendi freddo forza quindi perché sei venuto qui così se le suore ti beccano chiameranno la polizia ho un regalo per te e non può aspettare Natale cosa è qui fuori e in cacciarsi nei guai beh questa è un'eccezione è un pensiero ma ce la fa? andiamo ah ok sei leggero mi sono reti tanti da mangiare questo posto è il deserto dove sono le a un ritiro religioso mi ricordo come sta madre raffa? è l'unico che si salva qui dentro per un saluto no non mi serve no aspetta dai devo saltare allora vai su e saltare indietro vai tre ore ora v cosa devo fare? ok ah allora sì questa bisogna se più c'è indietro invece c'è indietro bollegnato ciavolo non l'hai puntellato? ma l'ho fatto o almeno credevi non importa passeremo dall'alto dall'alto non sei guarda wow e ora siamo pronti a salire diciamo allora se andava a scappare da questa sorta di erfanotrofio capisco tocca a te tocca a te x ah ecco la via la corda tieni premuto alle 1 vai anche per ora ragazzi grafica veramente buona fra l'altro io sto giocando senza l'aggiornamento l'1.02 che dice fra l'altro che porta anche delle migliori grafiche quindi di ora comunque è buona è una classica di uncharted ormai meno male la Naughty Dog per quante guai deve essere gioco ma anche su altri ma specialmente questo ci ha ci ha abituato a grafiche eccezionali ecco niente paura e muore non pensare e salta poi facciola ora torniamo indietro torniamo la rincorsa oh boia stengo visto niente di che già buona passeggiata mh prego forte eh fortissimo di qua ti segui ok un altro no ho sbagliato pensavo se non è andato di qua vai vai sem sì sì vai io avanti vale non è andato di qua poi vieni sem sì bello bello picciati sì le vedo molto stabili eh vai non è male bel panorama sì effettivamente partefatto e per il resto è tutto a posto e lo sapevo morto maremma cane maledetto me che c'ho furia non è male se ripartirevi vai ce la farei ora vai vado anche io devo vedere quante parte muoio oh miracolata abnorme oh ma come non è vero è fisicamente impossibile però vabbè è un gioco lasciamone fare ce l'ho fatta sì certo che c'è forza seguiti vai così se mori mori prima te davvero io ti vengo dietro brava ok vado proviamo se la fai o muori mani bruciate però vabbè non lo fanno vedere così si fa siamo liberi bene che te ne pare wow hai preso la 250 250 che stai farneticando no è la 502 cilindri incredibile già dove l'hai rubata wow colpo basso ok devi sapere che sono molto cambiato l'ho comprata lavorando solo dai su monta in serie cosa quando fai queste sorprese è perché cerchi di farti perdonare addio tu sei troppo sveglio sai vero va bene ho trovato lavoro pagano bene molto bene ma starò fuori città un po' quanto serve un po'? circa un anno al massimo ma tornerò prima che tu te ne accorga credi mi pianti i nasi oh smittila non essere così tragico quindi non ti è bastato abbandonarmi lì dentro come puoi farmi questo sempre ehi lo faccio per il tuo bene quei soldi saranno utili a entrambe e nel giro di un paio d'anni paio d'anni portami con te no non tengo a step me stesso contribuirò senti so che l'orfanotrofio ti fa sei quanta si ma ora per te ho detto bene un orfanotrofio capito davvero fidati di me non è giusto ehi abbiamo mai avuto niente di giusto ma ce la siamo cavata no? certo beh sai la moto non era l'unica sorpresa e dovrò svelarti la seconda cosa? ho trovato le cose di me quelle vendute da papà ho rintracciato l'acquirente ti avverto se lo dici solo per consolarlo no 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 te lo giuro dove? ah al di là della città che ne dici ti avvera prenderle vuoi dire rubarle? puoi rubare ciò che ti appartiene già io credo che la polizia sia d'accordo allora non facciamoci beccare ti prego dimmi che la devo guidare perché mi ispira parecchio e invece no siamo via vai boom cazzotto nel viso sì ragazzi i sottotitoli però dovevi mettere l'italiano perché sennò qui è un po' un problematico tradurli velocemente eh boom sinistra, destra, sinistra cingata este gringo ci sabe pelleare eh vai ma la pancia con i coglioni non puoi escormir come ti sabes este rompele brazo estás muerto elimina che tal esto oddio, oddio ma te l'ho pigiato ma quante duele spaccate il naso spaccate il nasino mendejo dai una paliza non vas arrepentir vuelve ahí estás muerto derribalo te voy a matar tu mene te voy a cerrar la bocota gringo te voy a tirar por el culo solitaria cállalo te voy a estar esperando aquí eh no mime 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 quale vada per il pro ralea per Alzati. Allora ragazzi, dato che qui, come avete visto, no? Allora, dopo questa rissa inizia il secondo capitolo e quindi di conseguenza inizia il primo e direi anche di concludere proprio qua il primo episodio. Allora, quindi niente, detto questo, questo era il primo episodio, come avete capito, cercherò di fare, a meno che un capitolo sia gigante, comunque, un episodio per ogni capitolo. E niente, detto questo, ci vediamo subito al secondo episodio nel quale, appunto, andremo avanti. Intanto siamo qui, da quanto pare siamo in un penitenziario. E niente, insomma, però reganzo, eh ragazzi? Via. Allora, ci vediamo, vai, ciao!